Ok, avete appena depositato lo smart contract della vostra collezione NFT, anche se quello che vedremo vale per qualsiasi smart contract, e adesso volete andarci a mettere mano o comunque a leggere dati dalla blockchain. In realtà la procedura è molto semplice e la vediamo in questo video. Una volta preso il PC, il modo più semplice per andare ad interfacciarsi con uno smart contract di una collezione NFT è recarsi su un marketplace che ovviamente regga la blockchain sulla quale è situata quella collezione. In questo caso io voglio vedere Bored Ape e una volta aperta la collezione possiamo cliccare su questo pulsante, anche se ovviamente l'interfaccia cambia da marketplace a marketplace. In generale se quest'icona non ci dovesse essere, basterà scendere fino a trovare un NFT di questa collezione, selezionarlo, scendere qui sotto finché non trovate la voce details e una volta cliccato vedete che il contract address sarà appunto evidenziato qui. Cliccate su questo contract address e vi riporterà in questo caso su Etherscan perché ovviamente la collezione è su Ethereum. Arrivati in questa schermata vediamo subito come il token tracker è Bored Ape e Hot Club con il simbolo della collezione BAYC. Di default ci dovremo trovare su questa schermata dalla quale scendendo troviamo le transazioni. Vediamo come ce ne sono 5 che attualmente sono in pending, mentre scendendo sotto troviamo le transazioni che sono state eseguite. In particolare qui vediamo un transfer from, quindi l'NFT è stato inviato da un indirizzo ad un altro, mentre questi altri qui sopra sono quasi tutti dei set approval for all. Questa è una funzione che viene richiamata dai marketplace per poter mettere in vendita quell'NFT. Quindi se io dovessi ricevere l'NFT sul mio indirizzo perché magari l'ho mintato o perché qualcuno me l'ha airdroppato, se io provassi a metterlo in vendita, in questo caso su OpenSea, dovrò approvare una transazione per metterlo in vendita che sarà questo set approval for all. Per poter leggere lo smart contract dovremo andare qui dove c'è scritto contract e vediamo come sopra c'è un pallino verde. Questo perché il contratto è stato verificato. Una volta entrati nella schermata contract vedremo tre voci, code, read contract e write contract. Nel primo potremo vedere tutto il codice che compone questo smart contract, dall'inizio fino alla fine. In questo caso vediamo come i Bored Ape, probabilmente anche perché è stata una delle prime collezioni, hanno 2021 righe di codice tutte in una pagina. Mentre se adesso andassimo a creare una collezione questa cosa non viene quasi mai fatta perché vengono importate più librerie all'interno dello stesso smart contract e qui non troveremo una sola pagina con tutte queste righe, ma magari 5, 6, anche 10 pagine tutte contenenti ovviamente meno righe di codice che si andranno però ad interfacciare tra di loro. Se invece lo smart contract non fosse stato verificato ci ritroveremo davanti solamente questa schermata con il contract creation code e non potremo vedere le altre voci qui sopra dove c'è scritto read contract e write contract. E adesso per interfacciarci con la blockchain abbiamo due modi, o leggendo dallo smart contract oppure scrivendo sullo smart contract. Nel primo caso sono tutte quelle funzioni che per essere eseguite non richiedono il pagamento delle gas fees che su Ethereum sappiamo essere anche abbastanza alte. Tra le varie funzioni da leggere ce ne sono alcune che sono molto interessanti, ovviamente non le vedremo tutte anche perché tutto il codice non l'ho letto, ma qui vediamo ad esempio scendendo qui sotto alla decima posizione name. Se cliccassi vediamo come il name è Bored Ape Yacht Club, ovvero il nome della collezione. Se scendessi ancora qui sotto potrai vedere il simbolo, se cliccassi sul simbolo vediamo come è BAYC, che è lo stesso simbolo che abbiamo visto qui sopra, eccolo qui, Bored Ape Yacht Club e BAYC. Scendendo di nuovo sotto possiamo vedere la total supply, cliccando vediamo come sono 10.000. Infatti se tornassimo su OpenSea, che è un marketplace che come tutti legge semplicemente dati dalla blockchain, vediamo come salendo qui sopra, tornando su Bored Ape Yacht Club per vedere la collezione nella sua totalità, vediamo come dice che gli items sono appunto 10.000. E adesso se all'interno dello smart contract abbiamo inserito delle variabili che non sono fisse, ma possono essere modificate utilizzando delle funzioni, dovremo recarci appunto nella sezione Bright Contract. Una volta entrati in questa schermata servirà fare Connect to Web3, ovvero dovremo connettere il nostro wallet ad Etherscan. Una volta apparsa questa schermata dovrete cliccare su OK, poi selezionare con quale wallet volete connettervi, il migliore senza ombra di dubbio è sempre Metamask, e visto che non è la prima volta che mi connetto si è connesso in automatico, altrimenti a voi apparirà un pop-up di Metamask che vi chiederà di approvare la transazione. Vediamo come qui ci sono parecchie funzioni, come ad esempio Mint Ape. Ovviamente adesso io non potrei farla partire, perché è quella funzione che permette di mintare un Bored Ape. Però i Bored Ape sono stati tutti mintati, infatti si trovano tutti i 10.000 su OpenSea, che è un marketplace che come tutti permette le rivendite, quindi il mercato secondario, mentre il mercato primario, ovvero l'effettivo Mint, è già stato effettuato, quindi se provassi a mintare un Bored Ape ovviamente darebbe errore. Poi scendiamo qui sotto, vediamo cosa troviamo alla nonna posizione, Set Approval for All, che è tra l'altro la stessa funzione che abbiamo visto prima nelle transazioni, che come vi dicevo tra le varie cose permette, mettendo in vendita un NFT su OpenSea, di dare appunto ad OpenSea il permesso di mettere in vendita sul suo marketplace quell'NFT. Ovviamente una cosa che non ho detto è che molte di queste funzioni possono essere attivate solamente se si è l'owner del contratto. E l'owner chi è? L'owner è chi deposita quel contratto specifico. Infatti va da sé che per mintare qui sopra la funzione 4, Mint Ape, per mintare un Bored Ape, non bisogna essere l'owner, perché chiunque può mintare un NFT ovviamente pagando una cifra. Però qui sotto scendiamo e c'è appunto il Set Approval for All. Io non posso dare l'approvazione ad esempio ad OpenSea di mettere in vendita il mio NFT se quell'NFT non è mio. Quindi solamente il proprietario di quell'NFT può metterlo in vendita. Mentre se vediamo il Set Base Uri è una funzione che può essere utilizzata solamente dall'owner del contratto stesso. Ok, ho provato anche tramite Command F a cercare una cosa specifica all'interno di questa pagina, ma in 2000 righe di codice non riesco a trovare comunque la funzione di modifica del Base Uri. Quindi prenderò come esempio quest'altra funzione, la function Renounce Ownership, che servirà appunto a rinunciare al possesso di quello smart contract. E vi voglio far vedere come è una function Public, Virtual e Only Owner. Senza spiegarvi cosa significa Public e Virtual, mi voglio focalizzare su questo Only Owner. Questo cosa significa? Significa che quella funzione specifica, la Renounce Ownership, ma come vi dicevo prima anche il Base Uri, sono degli Only Owner. Solamente l'owner di quel contratto potrà far partire quella transazione. Se voi ci provaste collegando il vostro wallet, ma non siete l'owner, ovviamente la transazione non andrà a buon fine. Un'altra cosa molto importante che va spiegata, è che quando voi realizzate il vostro smart contract e mettete in vendita gli NFT, se qualcuno mintasse l'NFT al prezzo da voi scelto, facciamo un Ethereum, quell'Ethereum non arriverebbe direttamente nel vostro wallet, ma finirebbe nel bilancio dello smart contract. Vediamo come infatti in questo caso, solamente perché non sono stati ritirati nel balance del contratto dei Bored Ape, ci sono ancora 13 dollari. Ovviamente è una cifra irrisoria e probabilmente non la ritirano nemmeno perché con il costo elevato delle Gaspis nemmeno gli conviene. O semplicemente perché con i miliardi che hanno fatto non gli interessa prendere 13 euro. Però questo è un altro discorso. Scendendo qui sotto, vediamo come c'è appunto la funzione Withdraw. Quindi poniamo il caso che voi abbiate realizzato una minting d'app, ovvero un sito web che permetta agli utenti di mintare da interfaccia grafica, come vi faccio vedere in questo video, che vi lascio sia nelle schede che qui sotto in descrizione. Ecco, una volta che qualcuno ha mintato un vostro NFT al prezzo che voi avete scelto, quindi facciamo un Ethereum, i soldi finiranno nel balance di questo smart contract. Quindi voi qui vedrete un Ethereum e qui sotto l'equivalente in dollari. Per ritirare quei soldi, ovviamente sempre Only Owner, quindi solamente se si è l'owner di quel contratto, si potrà scendere dove c'è Withdraw, selezionare e cliccare su Write. E vi faccio vedere come cliccando su Write, mi apre questa schermata di Metamask, che mi dice che non ho ovviamente i fondi per prelevare dallo smart contract, e che il costo è di 671 dollari. L'equivalente sarebbe 0.519 Ethereum. Ovviamente la cifra in realtà non è nemmeno così alta, ma me la fa sembrare così alta solamente perché io non sono loaner e sto cercando di eseguire una funzione che solamente l'owner può eseguire. Quindi in realtà se l'andasse a fare qualcuno che è davvero loaner di questo contratto, non costerebbe nemmeno così tanto, costerebbe molto di meno. Però anche in caso io avessi nel mio wallet questi 0.51 Ethereum, e andassi a cliccare qui sotto su Conferma, la transazione si partirebbe, ma dopo 5, 10 o 15 minuti, dipende anche dalla rete di Ethereum quanto è congestionata in quel momento, darebbe errore. Per farvi capire cosa succederebbe, annullando questa transazione e tornando qui sopra in Transaction, qui invece che tutte queste transazioni così, che se io andassi a cliccare sul Transaction Hash, vedremo qui appunto la scritta Success, apparirebbe una transazione con qui scritto Failed, e probabilmente anche il motivo per cui è fallita, perché nello smart contract si possono inserire dei messaggi in caso di errore, e probabilmente qui apparirebbe non sei l'owner, ovviamente in inglese perché per convenzione scriviamo tutti in inglese. E adesso avete tutte le conoscenze che vi servono per iniziare a mettere mano sugli smart contract e a leggere i dati dalla blockchain. Però se volete sapere come andare effettivamente a depositare uno smart contract e poi tutti gli NFT sulla blockchain, io vi rilascio a questi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!